Musica Hello, sono tutti, sono Pere Ebbene si, eccoci qui In un altro episodio della Life in the Voodoo Che non usciva da un bel po' E perchè non usciva da un bel po' Per, lo vedrete dopo Cioè, ve lo dirò dopo Perchè, come avete visto dal titolo Oggi faremo una bella cosa Però, prima di, appunto, andare a fare quella cosa Partiamo con I cambiamenti nel villaggio E... vai! Finalmente! Ho finito la torre Mentre voi eravate distratti mangiando i vostri cereali Che sono molto buoni cereali E mentre eravate distratti Ho completato le torri Le mura E adesso le mura Buongiorno anche a là, i guandadini e mister bui Che cosa? Ah, mentre eravate distratti Perchè mi distraggo anch'io dalla vostra distrazione E' un circolo vizioso Comunque Ho completato le mura E... Le ho anche un po' rimpicciolite Perchè qui doveva esserci il porto Perchè poi ho deciso di rimpicciolirle un po' E da come avete ormai già notato Sì Ho rimpicciolito un po' la collina Perchè la collina era troppo orripida E ci ho incominciato ad aggiungere delle... Uips Ci ho incominciato ad aggiungere dell'erba Un sentiero Degli alberi Degli alberi Così adesso poi si può salire facilmente qui Ma se non erro non c'è nessun villaggio Comunque E poi Anche una piccola cascata Perchè si Volevo una cascata in questo posto Che Arriva qua Si ferma con le grate di ferro E poi va anche a sfocciare nel mare Inoltre Abbiamo Ho fatto anche altre casette Ho fatto altre casette Ho fatto questa casetta E ovviamente non c'è nessuno Poi ho fatto questa casetta In stile Hobbit Che c'è una signora villager Che vende bull Poi c'è Il tizio E il loro pargolo Ciao pargolo Ehm Che cosa? Ah si Poi ho fatto Uh Eh 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 Vero è vero Poi è perso anche l'iron golem Ciao bello E ho fatto questa No questa casetta Già c'era Eh si ho aggiunto tipo Mille porte ad ogni casa Per far figliare villager Ehm Poi 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 Ah Questa piccola Casettina qui Dove non ci va mai nessuno Ah C'è un'altra donna villager Ok Poi Ho fatto anche questa casetta Ciao E questa casetta Già c'era Però ci ho aggiunto Le porte Eccetera Inoltre Cos'altro ho fatto? Beh Ho cambiato il metodo Di apertura Delle porte Wuhu Perché ho notato Che alcuni mob Riuscivano a passare Nel sistema che avevamo fatto L'altra volta E Ehm Però Tutti bene o male Sappiamo che I mob non possono Per qualche strano motivo Superare I railings Ovvero le rotaie Yeeeh Però Gli zombie Comunque A volte Ho notato Perché ho fatto proprio Questa roba A volte comunque Le superano Le rotaie E Allora Ehm Ho tolto La platform Qui per passare E ho aggiunto La leva Così bisogna fare così Per poter passare Però aspettate così Ecco No aspettate Ok Ok così Adesso si passa Ok Ecco qua Che guardate Tipo adesso Quel tizio Riuscirà a passare Aspettate No ok Se ne sta andando di là Stessa cosa Dall'altra parte Quindi Ehm Ah no C'è ancora un altro cambiamento Stavo per dire che Cambiamenti Le avevo fatti vedere tutti C'è ancora Un altro cambiamento Altri due cambiamenti Sì Ho aggiunto Un pozzo della distruzione Dove Dove ho buttato Tutta la roba Che ho scavato Perché davvero Ho scavato un bel po' Poi Ho Migliorato Il posto dell'enchanting Eccolo qua E inoltre ho fatto Le mura della miniera Che sono Non lo so Mi piacciono Tanti C'è la No le mura La porta della miniera E mi piace parecchio Mi piace Mi piace tanto 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 E avevo fatto Anche qui Il sistema Di String Se cose simili Però Poi per sicurezza Ho detto Dato che non è che funzioni Chissà quanto bene Ho aggiunto anche Questo con la porta Così se qualcuno Viene a rompere la porta Lo sento Però se non ero Di zombie Non sono in grado Di rompere questo Poi boh Non ne ho idea Poi un'altra cosa Che ho fatto È Il sistema Di ratings Qui Ho fatto Il sistema Di rotaie Per scendere subito Subito in miniera Subito Subito Per scendere subito Subito in miniera Qua Si scende qua Lì è Ah Non l'ho fatto vedere Vabbè Comunque per scendere subito Subito in miniera E qui è dove C'è la roba E da qui Si scende in miniera All'inizio volevo farlo Andare di qua Di qua E poi farlo scendere ancora giù Poi ho detto Nè Nè Va bene qua Perché qui c'è la scala Bella comoda E Wow Bella comoda E ci stavo cadendo su Ok E adesso torniamo indietro Che dobbiamo andare a fare qualcosa Ok Cammina 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 E poi adesso guardate Mentre risaliamo Che casino ho fatto Con gli slabs E cose simile Anzi adesso Arrivati a un certo punto Scendo pure Non vorrei cadere Ecco qua E ecco qua No dai No Uffa Ogni volta Ecco qua Comunque Vedete Tipo ho messo La legna E cose simili Per scendere qua Poi per scendere di qua E tutta la roba Per di qua Ecco qua Vedete Tutto Bello Carino Carino E mi piace molto Come è venuto Però Chissà come mai Chissà come mai Perché di solito C'è sempre qualcuno in mezzo Ci sono tipo dei mob E cose simili Però questa volta Non c'era nessuno In mezzo Ciao Quindi Ups Ok Fatemi passare Grazie Oh Bella lucente La luce Comunque Quindi questi Sono i cambiamenti Che ho fatto al villaggio Sì Spero di non aver Dimenticato niente Vabbè Tanto non è L'episodio finale Questo Quindi Se ho dimenticato qualcosa Lo vedremo nel prossimo episodio E oggi Andremo a sconfiggere Il Drago Bellendo Sì anche se non è L'episodio finale Perché Giusto ecco cosa stavo dimenticando Perché Buongiorno signora Buongiorno pergolo Buongiorno tizio Buongiorno altro tizio Perché Volevo dei consigli Su cosa fare In questa zona Buongiorno signor lampione Consigli Su cosa fare In questo posto Perché Non ne idea Non vorrei fare Solo delle case Volevo fare Tipo una zona mercato Cose simili Qua Perché tipo Questo è il municipio E lì tipo Una piazza mercato E poi Lì non ne ho idea E poi lì Fare comunque altre casette Cose simili Oppure una zona farm Perché lì fuori Ci dovrebbe Ecco cos'altro Ho cambiato Perché lì fuori Ho un recinto enorme Con mille mucche Perché qui Facevano casino E roba simile Ed erano stritte Quindi ho fatto Un Az Ho fatto Un recinto enorme Qui con tutte Mucche Però Non ho ancora Fatto tipo Che dovevo fare Una vera e propria Farma Però non so Se ne voglia Perché davvero Le mura Hanno distrutto Tutta la mia voglia Di costruire Ok Ma fatemi Dossare E vai Sono finito Sottoterra E vai Posso uscire Da qua Grazie Porte funzionali Al massimo Ok E Che cosa Sì Quindi Questo è Tutto quello Che Avevo da mostrarvi Del villaggio E Sono passati Già ben Dieci minuti Quindi noi In un'altra decina Di minuti Bene o male Dovremmo andare A fare quell'altra cosa Quindi partiamo Subito Sì Ovviamente Per risparmiare Tempo Ho già So Eh Ho già Trovato La Il portale E Se non erro Era di qua Che poi era Incredibilmente Vicino In realtà Ho fatto un giro Enorme Però era Incredibilmente Vicino Perché tipo Wow Ho iniziato A cercarlo Dall'altra parte Perché per qualche Stano motivo Non potevo Iniziare da qua No Mi ero detto Andiamo davanti Dove si è generato Il terreno nuovo Là dove c'è Il muro Strano No 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 Non sbattere Si è rotta la cosa Ah si Che sono andato Dall'altra parte E ho fatto Tutto il giro Per poi tornare di qua E poi quando sono Venuto qua Ho scoperto Che tipo L'isola nostra Era là E sono In mezzo Tipo No Perché ho fatto Un giro davvero Enorme Per venire qua Vabbè Comunque Dovrebbe Essere qua Sì Mi sembra Che dovrebbe Essere tipo Là Perché Ovviamente La cosa Si spona In mezzo al mare Lì tipo In mezzo al mare E allora Ho deciso di Prendere la terra Più vicina E fare un tunnel E andare Per sotto Perché davvero È una rottura di scatole Fare un tunnel Sott'acqua Quindi ho deciso Di tornare indietro E fare il tunnel Scendiamo qua Poi ho trovato Anche una caverna Figa Però va bene La vedremo poi Magari nel prossimo episodio Non lo so Perché adesso Dobbiamo correre A fare Quella cosa Ovvero Sconfiggere il drago Uh ha portato La roba Uh meno male Ah si poi Ho completamente Dimenticato Mi sono fatto Un'armatura di diamante Enchantata Spada Spada con smite Vabbè E Arco E roba simile Ho usato parecchio La farm Comunque Qui ho fatto Roba per dormire Eccetera Perché se tipo Crepo poi Corro subito Di nuovo alla battaglia A recuperare le cose E riattaccare Però non è notte Ok Oltre alla pausa Per aspettare la notte C'è stata un'altra pausa Di un'ora Due ore Qualcosa Perché Mi sono stato Internotto Comunque Oltre a Ad aver aspettato la notte Sono anche tornato indietro Per prendere delle cosette Un Roba In più Se crepo Potevo fare un'armatura di ferro Però ho preso la prima armatura Del cavolo che ho trovato Un arco Di potenza 3 Delle frecce Delle enderpearl Sì perché ho portato Delle enderpearl anche qui Dei blocchi Blocchi di legno Carne Cose simili Quindi se crepo Eccetera Non dovrei Morrire perché Comunque Uh è vero Ce l'ho L'enderpearl Oh Perché non ce l'ho messi tutti Non ne avevo abbastanza Comunque Cosa stavo dicendo Portale dell'endendragon Cosa stavo dicendo Oh mio dio Che schifo Oh mio dio Questo posto È bruttissimo Ok Mi sono un attimo Spaventato Dov'è il drago Ah Ah No Uh Ok Stavo già crepando Mi sa che ho fatto Arrabbiare qualcuno E vabbè Allora Dove sei Draghetto Ecco di là Draghetto Crepa Draghetto Crepa Draghetto Crepa Ok allora Aspettate Venite qua Facciamo una bella cosa Prima di tutto Dovrei Distruggere i cristalli Perché poi il tizio Si respona Comunque stavo dicendo Essendo una Battle normale Una battle Molto vanilla Non dovrebbe essere Troppo difficile Oh Dove sei Ok Perché Bear Ci ha messo Così tanto Tempo Grande A fare Quest'altro Episodio Dov'è Ah Non l'ho preso Perché ci ha messo Così tanto Tempo Eh però Dai Aspettate Ok Dai Con quest'altra Si vede un po' Uh Che figo Come si vede Con questa Ok Sì Con questa Shader Si vede Molto Meglio Seggia Oh mio dio Quanti cristalli Aspettate Comunque Perché ci ho messo Così Wow Dai Perché ci ho messo Così tanto Tempo Mi sa però Che se Spammo le frecce Lo ammazzo Comunque A fare Perché ci ha messo Tanto tempo A fare Questo nuovo Episodio Bear Beh perché Ne avevo Registrati altri Però Una volta Ho cancellato Per errore I file Video E l'altra volta L'episodio Non mi piaceva Come era venuto Perché Non lo so Mi sembrava Troppo noioso E quindi L'ho eliminato E quindi È per questo Che ci abbiamo Messo tutto Sto tempo A fare Un altro episodio Da life in the woods Perché comunque Io di solito Già ci Ah Oh Me Comunque Io di solito Già ci metto Un botto di tempo A farli Poi Ci sono stati Questi Inconvenienti Allora Lì e lì Sono stati distrutti Manca là E là Ok Mannaggia Ok vai là E quindi È per questo Che ci abbiamo messo Un bel po' Wow Dove sei? Quante frecce Ho ancora Un bel po' Ok Muori 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 un po' Di più Ma è C'ho schifo Ad ammazzare Sto Idiota Ok Mi sa che lo ammazziamo Così senza nemmeno Distruggere tutti i portali Che tanto Stiamo Tankerando Di frecce Ok E i portali Poi i cristalli Ehm Pou First shot A farlo Ok Ehm Che poi ho appena letto Che Ehm Dinnerbone Vero uno degli sviluppatori Di Minecraft Ehm Sta Rifacendo La battaglia Con il drago Se Nella 1.9 La battaglia Con il drago Sarà leggermente Diversa E ha detto Che vuole renderla Più simile A quella Dell'Xbox Cioè Della battaglia Della versione Dell'Xbox E in più Aggiungerà anche Altre cose Ha detto Poi non ne ho idea Però questo Non sarà L'unica cosa Che uscirà Nella 1.9 Di Minecraft Poi Già Jeb ha detto Che sta facendo Delle Dei roadblocks Cioè Ovvero Dei blocchi Fatti proprio Per diventare Della strada Quindi penso Che nei villaggi Nei villaggi Poi vedremo Quei blocchi Che sono dei blocchi Simili alla paia Bene o male Tipo sabbia Paia E sono un po' più bassi Dei blocchi normali Tipo la farmland Sarebbe la La terra Quando la Ari Si fa con la strana forma Cioè Si fa un po' più bassa E P E Vai Drago Ammazzato Oh yeah Sì questo scelere È molto più bello Per l'end L'altro end Faceva davvero schifo XP Anche se comunque Non mi serve A un cavolo Dato che Sono davvero pieno Di XP Grazie alla Farm Quindi però Vabbè Prendiamole comunque È esperienza draconica Quindi è più Gustosa Quindi abbiamo Ammazzato questo tizio E l'uovo Dai Lo veniamo a prendere La prossima volta Perché Non ho portato Il pistone Per spostarlo Quindi veniamo La prossima volta A prendere il piccone E Wuhuu Abbiamo sconfitto Il drago The end Sta roba La conosciamo tutti A memoria Ok Quindi Abbiamo sconfitto Abbiamo sconfitto Il drago In questo episodio E La roba La lascio là Comunque devo venire A prendere l'uovo Per metterlo Al centro del mercato Si Si Comunque In Nella Sezione Comendi Scrivetemi Cosa ne pensate Adesso vi faccio vedere un attimo la caverna Ah Porca La caverna La figata di questa caverna Mentre ce ne torniamo Dove era quel posto Aspetta Di qua Che ho messo torce Di qua Dovrebbe essere da qualche parte Forse non ho messo torce Comunque Scrivetemi nei commenti Cosa ne pensate di questa piazza Che voglio fare Potreste darmi dei consigli Su cosa aggiungere Eccolo qua Il posto Eccolo qua Potreste darmi dei consigli Su cosa aggiungere In questa piazza E cose simili Quindi Se avete dei suggerimenti Per quanto riguarda il villaggio Scrivetemelo in descrizione E si A breve finirà anche La life in the woods E Una cosa che ho dimenticato Di dire nel vlog E che non farò mai più Due serie Pesanti di minecraft Perché poi Finisco per trascurarne alcune Tipo la life in the woods E non voglio che questo Succeda di nuovo E quindi Faremo solo Una serie di minecraft Alla volta Perché altrimenti Non voglio Incasinare tutto E guardate qua Che figata Il mondo viene tagliato a metà E c'è questa Roba per uscire fuori Comunque Questo Non sarà L'episodio finale Della life in the woods Faremo qualche altro episodio E penso che Finiremo La life in the woods Quando avremo completato Il villaggio E saremo soddisfatti Con la completazione Del villaggio Quindi se avete suggerimenti Per la costruzione Del villaggio Tutti sono i benvenuti E potete scrivermi Lì nei commenti E per tutte le altre Forme di Contatto Che abbiamo Facebook Commenti di steam Gruppo di steam Tutto quello che volete E In seguito Vedremo un po' Perché l'episodio Probabilmente uscirà Tra un altro po' Perché Prima Dobbiamo unire Le nostre idee Poi le devo fare E devo andare A prendere i materiali Quindi No vabbè Però ho preso Un bel po' Di roba L'ultima volta Quindi Ci rivediamo Nel prossimo episodio Vi ringrazio per aver visto Questo video Spero che la Battaglia Contro il drago Sia stato di vostro gradimento Anche se comunque È la normale Battaglia del drago Di Minecraft E quindi Ci vediamo Nel prossimo video Sì Ciao Ehi Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere Tramite un like Un commento Ma non per quella cosa Un milione di like Sono il più figo di tutti Oh yeah Ma semplicemente Perché così capisco Se una cosa vi piace Oppure meno E Grazie per aver visto questo video Ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao